ben ritrovati oggi parlerò di come è nata come si è evoluta e come è diventata simbolo e oggetto di desiderio bottega veneta bottega veneta fu fondata a vicenza nel 1966 il marchio produceva soprattutto borse e articoli di peliteria quello che ha reso la maison famosa in tutto il mondo è l'intrecciato una tecnica che ha inventato e che consiste nel intrecciare una con l'altra piccole fettucce di pelle fino a formare un vero e proprio tessuto uniforme per le borse e altri prodotti di peliteria è un processo artigianale molto complicato già negli anni settanta bottega veneta conosce un rapido successo grazie anche allo slogan quando le tue iniziali sono sufficienti e il brand sbarca nei stati uniti dove riesce a conquistare una clientela importante nel 1975 iniziò a realizzare anche scarpe e ai fine degli anni 90 vestiti successivamente ha lanciato anche le linee di profumi gioielli e cose per la casa sempre nello stile sobrio e lineare tipico dell'azienda nel 2001 bottega veneta entra a far parte del gruppo gucci oggi nel portafoglio di caring e thomas mayer viene nominato direttore creativo del brand ruolo che ricoprirà per ben 17 anni la borsa intrecciata più famosa è la cobat inventata da thomas mayer è molto capiente e senza fodera l'interno è bello quanto l'esterno un altro pezzo famosso è la borsa knot una pochette rigida fatta sempre con un tessuto intrecciato e caratterizzata da una chiusura a forma di nodo da cui il nome ne sono state fatte decine di versioni e viene inserita in tutte le collezioni ogni volta con qualche nuovo dettaglio nel 2018 al posto dello stilista thomas mayer subentra daniel lee capace di rileggere i codici della storica casa di moda e trasformarli in oggetti di desiderio tra maxi intrecci catene bold e color verde accesso i capi accessori che hanno segnata la carriera di daniel lee sono la borsa a mano pouch borsa da colpo di fulmine il celsia boats con suola bassa media e alta è stata la prima scarpa a bottega veneta a diventare super popolare e poi anche super copiata aprendo la strada a numerose imitazioni e rivisitazioni la cassette bag trama larga e morbida come un cuscino la mini jody borsa a mano a spalla che prende il nome dell'attrice jody foster che ha usato la borsa per nascondere il viso dai paparazzi è diventata presto un must per le influencer e celebrity l'elito questa scarpa è diventata subito riconoscibilissima è uno dei accessori dal più grande successo commerciale disegnate da daniel lee dall'ingresso di daniel lee il verde bottega è diventato uno dei colori più iconici della moda durante il suo periodo da bottega veneta daniel lee ha deciso di discostarsi completamente dai social media cancellando sia il suo account personale sia promuovendo l'uscita dai social anche del brand creando invece una forte collaborazione con gli influencer tutto questo che sia pura strategia di marketing o frutto di un progetto più ad ampio aspettro ha contribuito a creare un hype pazzesco intorno al brand i cui capi e accessori sono diventati oggetti del desiderio con daniel lee bottega veneta ha ritrovato il tocco magico nel 2021 lee lascia la direzione creativa di bottega veneta la notizia è stata definita un divorzio a sorpresa dalla presa internazionale la maison annuncia una nuova collaborazione con matteo blesi a partire dal novembre 2021 il nuovo direttore creativo di bottega veneta debuta con la sua prima collezione autunno inverno 2022-23 durante la milano fashion week ispirata alle opere futuriste di umberto boccioni la collezione di matteo blesi è un restart fluido e sensoriale con enorme gonne a ruota con sottogone in pelle con frange sottili secondo il sole 24 ore nel 2021 il fatturato di bottega veneta ha superato 1,5 miliardi di euro in crescita con 24% per oggi è tutto crea cuci e ondosa solo ciò che ti rappresenta ci vediamo al prossimo video ciao